Con il tecnico Luca Tabbiani al termine di Triestina-Trento, c'è stata una sofferenza fisiologica iniziale, tra poi credo che la squadra abbia interpretato bene la partita, probabilmente come volevi più o meno, come volevi, non so. Sì, l'abbiamo interpretata bene, abbiamo lavorato bene contro una squadra comunque che ti mette in difficoltà perché cerca spesso l'embucare, siamo stati bravi dopo poco a leggere delle situazioni e con la palla abbiamo lavorato discretamente per quasi tutta la gara. Quando siamo andati un po' in fatica abbiamo fatto un po' di errori di scelta, nel senso che forzavamo un po' troppo e ci toccava rincorrere, però la cosa positiva è come reagivano all'errore i ragazzi, rientravano tutti forti, recuperavano la posizione, abbiamo fatto una buona gara che deve essere di buon auspicio per quello che dobbiamo andare a fare in campionato, però come vedete ragazzi è una squadra che ha grandissima disponibilità, fa un grandissimo cuore e l'ha messa in pratica nell'ultimo calling break, ormai la partita era un po' rotta e serviva ad avere il carattere che mi hanno dimostrato di avere in questo mese alla fine di Riffo e di Raffa, sono riusciti a portarla a casa. Mister, sia in fase di possesso che di interdizione si è vista già una buona impronta, immagino che sia contento e a che livello è rispetto a quello che chiede? Sono contento perché, ripeto, al di là poi del risultato finale che aiuta, può far sembrare una prestazione ancora migliore, ma se fosse finita a pari, fossimo andati a sperimentare e avrei detto le stesse cose, sicuramente ci sono dei piccoli dettagli che dobbiamo andare a migliorare, a volte scalavamo un po' in ritardo, a volte andavamo senza avere l'appoggio dietro dei compagni, quindi ci sono un po' allungati tra le linee, sempre però sono errori tra virgolette di generosità e quindi li prendi con felicità questi errori perché vuol dire che c'è la voglia di fare quello che comunque ci arriviamo durante la settimana fa. Per quanto riguarda con la valla abbiamo lavorato bene, l'unico appunto sono quei frangenti un po' all'inizio del secondo tempo e i minuti finali del primo, dove eravamo secondo me un po' in fatica e abbiamo forzato un po' tante giocate, abbiamo ragionato un po' meno, ma ripeto, sono tutte cose che c'era anche molto caldo oggi, sia per noi che per loro, quindi la partita ha vissuto un po' di momenti, un po' noi, un po' loro, un po' non un po' loro, ma nel complesso abbiamo gestito bene la gara, abbiamo rischiato relativamente poco per quello che è, abbiamo avuto un po' di occasioni per poter andare in vantaggio anche prima, quindi tutte queste cose ti fanno analizzare questa partita in maniera positiva ma siamo all'inizio ed è di buon auspicio perché di solito si può sempre andare a migliorare, quindi dobbiamo ricercare sempre più la perfezione nelle scalate, sempre più la perfezione del momento di andare e del ragionare quando si deve ragionare con la palla e del verticalizzare quando invece andiamo calma per andare, tutte cose che si imparano giocando, più giochiamo più ci rendiamo conto di queste varie situazioni di gara, però ho visto quello che mi aspettavo di vedere perché si sono allenati veramente bene per tutto il mese. So che non è sempre una cosa migliore parlare dei singoli, però la vera novità era la presenza di questo, ho visto in campo, credo che si sia inserito molto bene all'interno di un gruppo che già si conosceva e che già è in qualche modo. Guardi lavora da un mese, da un mese con noi, è benvenuta all'inizio, quindi sicuramente ormai è dentro a determinati concetti. Come ho detto ieri abbiamo una rosa equilibrata, abbiamo 22 giocatori nei vari ruoli che si possono compensare ed è una forza per la nostra rosa, considerando che poi il campionato sarà lungo, ci saranno infortuni e varie cose, è uno dei giocatori importanti ma ne abbiamo tanti, sugli esterni ho l'imbalanzo della scelta, davanti eravamo fuori Petrovic, poi alla fine ci ha giocato Anastasia e abbiamo visto che sta bene in tutti i reparti, abbiamo i doppi ruoli, i ragazzi giovani stanno crescendo, è entrato Francesco che è arrivato da poco e ha messo subito in campo l'energia che ha dimostrato di avere appena arrivato, quindi siamo contenti, ci rendiamo conto di avere una buona rosa e sta a noi valorizzarla, io lo staff e i ragazzi valorizzarla per poter arrivare all'obiettivo massimo che oggi non ha senso darci ma ha senso ambira qualcosa di bello, qualcosa che secondo me siamo in grado di poterci giocare a fatto che continuiamo a lavorare nel modo giusto.